Sono riprese a Monte Calcinera, nel Catanese, le ricerche dei corpi dei due piloti che ieri pomeriggio erano a bordo del Canadair 28, precipitato durante una operazione di spegnimento di un incendio nella zona etnea. Erano state sospese ieri sera dopo l'arrivo del buio. Alle ricerche partecipano i vigili del fuoco, che utilizzeranno anche i droni e personale del Corpo Forestale e della Protezione Civile Regionale. In un video dell'incidente, girato con un telefono cellulare, si vede il Canadair che vola su Monte Calcinera effettuare un lancio sulle fiamme dell'acqua con cui si era rifornito in mare, abbassarsi e urtare con la carena sul terreno e poi purtroppo esplodere. La deflagrazione ha causato anche un incendio, che ha reso ancora più difficile l'intervento dei soccorritori e le ricerche dei due piloti a bordo, che non sono ancora stati trovati. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Randazzo, che stanno ancora cercando di ricostruire l'esatta dinamica della sciagura. Ieri era una giornata di sole, ma gli investigatori non sono ancora in grado di stabilire le condizioni del vento. Il Canadair era decolato dalla mezzia terme, faceva parte della flotta della Babcock Italia, società leader di servizi medici di emergenza aerea presente nel nostro paese con 48 basi. Il velivolo aveva prelevato dell'acqua in mare davanti alla città di Giarre e dopo una virata sul monte Calcinera aveva effettuato un lancio nella zona centrale del rogo. Non si conosce ancora l'origine dell'incendio, che si pensa possa essere stato di origine dolosa. Nelle immagini si vede il Canadair 28 abbassarsi e toccare con la carena il terreno, subito dopo l'esplosione e l'incendio, mentre nel video qualcuno urla «Mio Dio, non è possibile!». Il presidente della regione siciliana Schifani intanto in un messaggio ieri sera ha espresso profondo cordoglio per la tragedia. Le ricerche proseguono.